È stato un avvenimento che ha scosso anche la popolazione, perché già a Cattuola non si parla altro che di questo ritrovamento, di questo relitto. Infatti tanti curiosi già oggi sono ritornati di nuovo su questa spiaggia per vedere anche a Galizzo e per sapere se ci sono altre novità, per sapere se è davvero una barcandica oppure un barcandino o un peschereccio. Secondo te una barcandica o un peschereccio? Secondo me ci sono delle opportunità di ritrovare una vera barcandica, perché nella posizione dove è messa è abbastanza vicino alla sabbia, dove qualche anno fa dopo questa barcandica è già stata la sabbia, o almeno si pensa, quindi era un ritrovamento per i barcandici. Sono abbastanza esperto da poter giudicare, non lo so, spero bene, spero sia un riposto antico. Magari una nave della guerra punica, una nave romana, mercantile, qualcosa che potesse valorizzare anche un po' la zona. La fauna della noce rompeando al mismo, la fauna della noce rompeando al mismo, la fauna della noce rompeando al mismo, Azzam brella della noce rompeando al mismo, Azzam brella della noce rompeando alJusto. Chorriere il autorizare anche un po' la torriere per la terra noce rompeando al mismo, per la torriere il autorizare anche un po' la torriere il razionario. Azzam brella questo è un po' la torriere di ritrovare anche un po' la torriere sa amante